Benvenuti figlioli e figliole a un nuovo video di Multiplayer.it, stavolta dedicato a Disintegration, un titolo di cui è il caso di parlare, perché sarà sì presentato alla Gamescom, ma è stato anche recentemente svelato sulle pagine di Edge. Il motivo per cui il gioco ci stuzzica è principalmente chi c'è dietro. Marcus Leto, art director di Bungie, un veterano che ha lavorato a tutti i giochi della serie fino a Rich e ha creato Master Chief, che oggi ha deciso di ripartire con un nuovo team di sviluppo chiamato V1 Interactive. La sua squadra è composta da altri veterani di Bungie e da un gruppo di giovani talenti selezionati da una delle scuole più rinomate di Washington, dove Leto stesso fa da mentore. È un bel team di sviluppatori, insomma, particolarmente indicato per la creazione di un FPS di successo. E proprio questo è Disintegration, un first person shooter dal feeling vicino a quello degli Halo, stando a quanto detto dai giornalisti di Edge, ma completamente diverso a livello strutturale e di gameplay. Qui infatti sarete a bordo di una Grav Bike, un mezzo volante armato fino ai denti e in grado anche di bombardare i nemici. Contemporaneamente però al controllo di una truppa di tre personaggi guidati dall'intelligenza artificiale, a cui potranno venire dati ordini precisi. Truppa e moto saranno personalizzabili e il gameplay pare studiato per essere tattico, ma non eccessivamente complicato, con comandi pensati per dare ordini facilmente ai propri soldati e al contempo gestire ad avere la moto fluttuante sul campo. Sempre stando al pezzo di Edge, tutto si svolge molto più rapidamente di quanto si possa credere, le Grav Bike sono molto veloci e sembra che la formula funzioni alla grande. Non è tutto solo multiplayer e gameplay comunque, ci sarà una campagna single player che inizialmente doveva essere cortina e ha poi raggiunto misteriosamente le 10-12 ore. Infatti Disintegration si basa su un complesso background narrativo, in un mondo futuristico e post-apocalittico, dove però la Terra non è distrutta, ma solo in larga parte è disabitata per via di un misterioso virus. La malattia ha dato vita a due fazioni, gli Integrated, robot a cui sono stati impiantati i cervelli umani per sopravvivere al virus e lasciare che questo sparisse prima di tornare veri umani, e poi una nutrita resistenza di umani puri che non hanno voluto diventare integrati e combattono per la sopravvivenza, convinti che qualcuno tra gli Integrated abbia diffuso il malanno per favorire la trasformazione dell'intera razza. Voi vestite i panni di un ex personaggio televisivo esperto proprio di Grav Bike, che dopo aver combattuto dalla parte degli Integrati inizia a dubitare dei suoi motivi e fugge dopo essere stato imprigionato dalla sua fazione. Difficile dire dove andrà a parare la trama, ma ci sembra interessante. Seppur chiaramente influenzata da altri giochi. Altre informazioni? Non sembra che ci sia una progressione online alla Call of Duty. Tutto è sviluppato con Unreal Engine e le mappe vantano una distruttibilità totale per rendere la gestione delle coperture ancora più tattica durante gli scontri. Davvero curioso, peraltro, che questo sia il risultato finale, visto che inizialmente Disintegration doveva essere una sorta di successore spirituale di Meet, uno dei primi giochi di Bungie. Insomma, siamo molto interessati e non vediamo l'ora di vederlo alla Gamescom. Alla prossima ragazzi!